Da un'idea della Vocal Music Academy nasce Vocal Live. Questa accademia dà la possibilità ai suoi artisti di essere messi in vetrina, di essere visti da voi. Noi siamo pronti con questo viaggio a iniziarlo soprattutto con Kimberly Mangano. Interpreterà un successo di Ed Sheeran, Shape of You. Vai Kimberly! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!